Sei stato al vertice dell'Atletica negli anni passati, oggi come li stai allenando e che progetti futuri hai? Adesso diciamo che il progetto è di allenarsi parecchio per questa stagione all'aperto che comincerà sicuramente dalla seconda settimana di maggio e l'obiettivo di prossimo anno è di centrare il minimo per i campionati del mondo e poi da lì cercare di ritornare l'Andrew Howe del passato. La scelta di Fabrizio Donato come coach a cosa è stata dovuta? Ma più che altro è stata molto per caso perché diciamo che ho saputo che lui voleva così, cominciare ad allenarsi da solo, voleva sperimentare altre idee di allenamento e io ormai quello che avevo fatto, il mio allenamento, il mio periodo in Svezia era terminato quindi ho preferito parlare con lui e io ho chiesto se mi potevo affiancare e lui mi ha detto assolutamente, anzi da lì abbiamo incominciato ad allenarci ad ottobre insieme e fino adesso sembra che le cose stanno andando molto bene.